Per favore, nome e cognome in camera? Jessica Marchese E anche gentilmente il mail? Marchese.jessica1993.com Perfetto, possiamo andare Jessica Allora piede destro sul freno Ok, quando vuoi possiamo andare Dai un po' di gas perché la macchina non ha servo sterzo Non ha servo il freno Vai Cambia lena automatico, ok? Te l'ho messa io in automatico Puoi pure dritto Mi sento in un go-kart Eh, sei in un go-kart più o meno Jessica Di dove sei Jessica? Treviso Dove esattamente? Oderso Oh, oderso Ok Giriamo qua a sinistra Tu nel primo giro che fai qua? Hai già guidato qualcosa? Eh no, è il primo giro Ok, qua a sinistra Jessica Perfetto, andiamo sempre dritto Alfa Romeo Trek Ok, freni leggermente Entra dentro qua a destra Non ti fermare, vai pure Non può arrivare nessuno da sinistra Quindi non ti preoccupare Concentrati solo su quello che vi dico davanti Ok, vai pure Accelera pure Jessica Vai, girando il gas senza paura Vai Vai avanti Accelera pure Tira pure gas Vai a frenare dopo il cartello dei 100 metri Frena Di più Di più Ancora un po' di freno Brava C'è la sentita sul cordolo Bravissima Subito sul secondo cordolo Guarda molto lontano Jessica Vieni qua Ok Perdiamo gas Via Freni leggero Cerca subito il cordolo a destra Vieni Gas Facciamo passaggio Facciamo andare a lui Sinistra Sinistra Scusa che c'è uno Ok Vediamo gas Vai Morbida 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 Non essere troppo violenta Vieni verso destra Verso destra La curva è sinistra Sempre opposta di dove è la curva Ok Com'è? Tutto a posto? Sì Ok Giro via di sterzo Giro via la testa Guarda la web Da la macchina Ok Non è mica semplice Non è più facile Vai C'è la la tutta Adesso vai C'è anche il cordolo Vieni qua Subito sul secondo Scusa sul cordolo Sinistra Tremiamo C'è l'applicita su di destra Pronta sulla curva con la sinistra Spalanca l'acceleratore Pronta? E Vai Via Accelera pure Ti dico io quando frenare Ma fatto che freni tanto Vai gas Vai Anche a te lo 200 Più freno Più freno Più freno Oh brava Andiamo a mettere qua Attenzione a quella curva là Che è veramente stretta Quindi tu stai tutta a sinistra Vedi dove c'è quel birrello lì Rallenti proprio bene Ok frena Tanto sterzo Gira Tira per la testina Guarda qua Sì Ok Vai gas subito Via Su destra Senza freno Tranquilla Vai Aspetta con gas Vai Arriviamo gas Ci teniamo verso destra Rientriamo Bello 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 Cosa vuedi tu normalmente? Eh? Cosa vuedi normalmente? 500 Ah vale Dio Un certo Di mangiun Dio Un certo Un certo Un certo Voi Un certo Grazie a tutti.